E' un bacio, come è bene, ma... Bene, bene, tutto forse... Ma la vita è facile, la faccio, 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 la faccio... Eh, guarda, eh, posso, come la hai da metto? Non deve tenere il vento, non deve tenere il vento, non deve tenere il vento. Quando hai chiuso il vento? Allora, io nel buco lo so mettere, però tu parla con francesi, non te lo metto nel buco, va bene? Pronti? E se ti parlo spagnolo? Sti proposta qui, a me già me l'hanno fatto, io non l'accio. Tu fai il croce all'altra parte perché io ti posso fare niente. Hai capito Michele? Hai capito Michele? Lui non l'accetta. Chi è? No, noi ce l'andiamo perché è ancora un orario, è un orario, ci sono i bambini ancora, lei e Finorelli è presente. Che è successo? Lei e Finorelli si è parlato di buchi, guarda. Allora, facciamo una... Scusi, signore, no, scusi, niente, questo è lo spazio a me. Allora, scendo, scendo subito. Non permette, può pure ristare. No, per i buchi, facciamo una trasmissione dalle 10 in voi. Eh, per i buchi, guarda la signora che gli hai fatto, cosa gli hai fatto alla signora? Sindaco, signora, ma mica devi stare per caso. E non strillo un po', un po' strano. No, ma tu l'hai detto, io sono... Sono di quell'altro mondo. Sei in quell'altro mondo? Sei una troietta, diciamo. No, 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 no. Me ne sono accorto, dal taglio dei capelli, soprattutto. Stupidona. Allora, io mo' canto, però dobbiamo fare una cosa. Perché te ne sto detto. Che tengo da fare? Lei vuol salire sul Versailles, signore, per piacere. Ha detto quello che vuol salire. Mettete... Dai, vieni. 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 Eh, guarda, ci vuole la pacienza a stampare. Allora, facciamo una cosa. Questo che hai da cantare una canzone è una cosa. Eh, ci sta... Però dovete partecipare pure voi. È una canzone che magari non lo sapete. Però io vi dico come avete da cantare, voi lo cantete. Siete d'accordo? Sì. Ah, meno male. Guarda, già mi abbia sentito un po' più sicuro. Ma me la spiega. Come facci che quella canta... Mi mettele qua. Allora, questo te lo metto qua. E lui lo tiene in mano. E il fatto che lui lo tenga in mano, questo non è chiaro. Michele, ce l'ha con te. Lo devi tenere... Lo devi tenere... Lo devi tenere in microfono e poi in mano lo devi cantare. Io... Uno sta qua e uno sta là. Io in mano non lo tengo in mano, io lo tolgo in microfono. Ti... Che vuoi fa a suonare a cantare? Non mi metterla là. È questo, solo questo. Aspetta. Non mi metterla là. Non mi metterla là. Ma, riga, fai l'asta. Raga, che asta! No, perché non me... Mi che... Non me lo vuoi mantenere, eh? Me lo mantengo da solo. Raga, 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 raga. Non mi metterla là. Ma non mi metterla là. Scusa, ma... Noemi, dove sei? Sta qua. Ma... Noemi, tu che mi hai messo a mezzo a questo pasticcio? Perché ne vedi pure tu? Non mi metterla. Ma... concorrendo. Allora ci vogliamo provare? Io faccio la parte La playa stava destierta Il mar bagnava la tua piel Cantando con la guitarra Para ti, Marisabel Facetme un applauso Grazie, grazie Nella arena scrivi tu nome E poi io lo vorrei Para che in all'episar Tu nome, Marisabel Insieme Ciri biribim Porom pom pom 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 Bravo! La luna poi camminando Junto a la zona del mar Junto a la zona del mar Teniaselo de tus ojos Ciri biribim Porom pom pom Ciri biribim Porom pom pom Ciri biribim Porom pom pom L'ultima volta insieme fatemi un applauso bravo Beppe bravo Beppe allora ma dette qui si che vi devo raccontare una barzelletta me li posso raccontare? allora in un certo momento signori scusi tu fai la barzelletta a lui o a me? a tutti e due allora mandiamo la chitarra che piacere ci vuole una pacienza a campare praticamente che è successo? ci sta uno due compari vanno a caccia a caccia grossa sta straiate tutti e due uno con fuggile la carabina e l'uleone che faceva e quello è straiato a pia l'amirca la carabina lo capite il dialetto? è straiato a pia l'amirca la carabina e l'uleone che faceva a un certo momento spara come spara? fa clic sargino e lo compagno fa combaci e se fosse la madonna e poi ci si mangia a un certo momento e capite che la vita è facile a un certo momento sempre roba di caccia mostriamo con la caccia a un certo momento uno va a caccia arve gli fa combaci come a ita combaci come a ita stai là con il leone che mi guardai mi facevi grrrr 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 e io stai là davanti e che fatto combaci? spiana la carabina e che fatto? come vai a sparare? non spara la carabina e che fatto combaci? è è è! combaci gli attivano i fuggili gli annini il leone arredo gli annini il leone arredo gli annini il leone arredo a un certo momento il leone spiccano e salta sotto il burro e dice quel compagni ma vese cacate sordi e compagno da credo che ha scivolato volevo